Che hai preso oggi? Qualcosa di un po' diverso Un po' diverso Strano, non ricordavo di averne preso uno Di chi è? Non c'è scritto niente Perché l'hai preso allora? Veramente io pensavo di aver preso soltanto cd Vabbè mettilo Scusa un attimo Pronto? Ah sì Perfetto, va bene Guarda Vittorio scusa quell'impegno di lavoro che ti dicevo Tranquillo tranquillo lo so Ci vediamo domani allora Ci vediamo domani Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Come ti dovresti sentire? Ascolta. Ma mi prendi in giro? Mi vorresti dire che io sarei stato tutta la notte ad ascoltare il nulla? Non sto dicendo che sei pazzo. Magari sei un po' sotto stress. Lo posso capire. E' il mio pezzo preferito. E' il mio pezzo è un po' sottofondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.